cari amici in Motorsport ben ritrovati Motorsport Report questa volta parliamo del Gran Premio d'Austria di MotoGP dove ancora una volta ha vinto Mark no ha vinto Andrea Dovizioso che ha riportato alla vittoria Ducati ricordiamo l'ultima Danilo Petrucci al Mugello e ha conquistato la sua personale seconda vittoria della stagione dopo quella in apertura all'Osail Matteo finalmente abbiamo visto tra l'altro una bellissima gara fino all'ultimo giro fino all'ultima curva un sorpasso di Andrea ai danni di Mark Market questa volta sì strepitoso e possiamo dirlo forse non ci credevamo nemmeno più a un certo punto poi dopo invece cosa è successo? Sì forse non ci credevamo più sabato già perché Mark per tutto il weekend ha dato la sensazione di avere un passo superiore anche nel fortino della Ducati dove aveva vinto solo la Ducati perché l'Austria è tornata in calendario nel 2016 e da allora ha vinto Andrea Iannone con la Ducati nel 2016 Andrea Dovizioso con la Ducati nel 2017 Orge Lorenzo con la Ducati nel 2018 quest'anno è riuscito il poker a cui sabato forse credevano in pochi considerato anche che in qualifica Dovizioso si era ritrovato addirittura dietro a una Yamaha cosa che sembrava impensabile andando a vedere le speed trap dove le Yamaha erano dieci e oltre chilometri orari più lente poi ieri in gara lo si è visto però sì Mark sembrava avere tutte le carte in regola per riuscire a fare luoto subito invece forse complice anche un Dovizioso che se l'è sentita di azzardare la gomma soft posteriore che con la temperatura bassa di ieri era quella giusta è riuscito a rimanergli attaccato a mettergli pressione e niente Mark comunque quando si arriva nei duelli ruota ruota con Andrea lo soffre perché spesso e volentieri esce capò sì infatti anche perché poi come dicevo abbiamo visto a oggi forse la manovra più bella della stagione Matteo penso proprio di sì perché Andrea ha provato a ripetere la manovra che ha fatto Mark nel 2017 ma che gli era andata fatta male cioè ingresso all'interno all'ultima curva che essendo in discesa in contropendenza tende a portarti fuori in quel caso Mark andò lungo e Dovizioso trovò l'incrocio questa volta invece c'è stato anche un leggerissimo contatto tra i due che ha impedito a Mark di spalancare il gas prima e quindi è venuto fuori questo sorpassone costruito molto bene da Andrea che ha sfruttato la sua capacità di studiare l'avversario all'ultimo giro perché si era accorto che con la gomma media Mark era un po' in difficoltà nelle curve a destra e quindi ha attaccato tantissimo alla curva 5 e alla curva 8 i due curvoni lunghi a destra del Red Bull Ring per arrivare lì attaccato 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 e ha fatto una manovra che molti hanno paragonato al sorpasso di Valentino su Orge Lorenzo a Barcellona 2009 e però per una volta devo essere d'accordo con Valentino perché Valentino scherzando ha detto sorpasso bellissimo ma il mio a Barcellona su Orge per me resta più bello sono d'accordo con lui però diciamolo Andrea ieri ha fatto veramente una gara di altissimo livello perché gli è rimasto attaccato quando non sembrava possibile quando andava davanti lo provava a rallentarlo la gestita veramente alla grande e secondo me qui viene fuori il secondo aspetto per cui la Ducati è stata grande protagonista del weekend lui probabilmente se sente che dico queste cose si arrabbia però guarda caso nel weekend in cui si parla di Lorenzo che torna in Ducati e lui non la prende per niente bene giovedì ritroviamo un grande dovizioso che sembravamo un po' aver smarrito negli ultimi mesi secondo me è vero Red Bull Ring pista giusta per la Ducati però secondo me la cosa non è casuale quindi si può anche dire in questo caso senza magari far torto alla Ducati che comunque Andrea ha avuto un ruolo molto importante nella vittoria che ha fatto ieri nel senso è stato molto bravo dal punto di vista tattico e poi è stato coraggioso alla fine quando appunto serviva un po' gli dicono sempre che non è coraggioso che non azzarda mai beh insomma sì anche perché finalmente sono di nuovo due gare in cui vedi Bernol la settimana scorsa due settimane fa e ieri in cui lui fa la differenza rispetto agli altri piloti da Ducati che era una cosa che era mancata un po' dopo le primissime gare era mancato Danilo e Jack Miller gli erano sempre attaccati invece questa volta lui ha fatto vedere effettivamente di avere qualcosa in più e sì insomma poi secondo me è il caso di ricostruire un po' quello che stavamo dicendo prima che perché giovedì nel paddock è scoppiata la bomba secondo cui c'erano dei contatti tra Ducati e Orghe Lorenzo con Orghe Lorenzo che voleva chiudere il il suo rapporto con la Honda alla fine di quest'anno e pur di tornare in Ducati era disposto ad accettare di avere una GP20 all'interno del Prava Racing ovviamente si scatena l'inferno in quel momento con la reazione più dura forse proprio quella di Dovizioso che dice la Ducati non ha bisogno di Lorenzo per crescere però da lì ha sentito quella pressione secondo me è un po' quella pressione che gli è mancata ad osso con Danilo non lo dico per sottovalutare il talento di Danilo perché comunque parliamo di uno che dopo 11 gare è terzo nel mondiale e anzi ha fatto teoricamente meglio di Lorenzo nei due anni ducatisti dico proprio per il discorso della figura ingombrante che poteva essere Lorenzo rispetto a Danilo è arrivata questa risposta non a caso non so se lo vedete qui dietro c'è stata una bella frecciatina anche nel dopogara perché gli hanno chiesto ma sei un campione o un grande pilota proprio come la frase che riporta sul casco Org Lorenzo e lui ha detto non lo so quello me lo dovete dire voi ma di sicuro io non me lo scrivo sul casco insomma un messaggio abbastanza chiaro e diretto anche perché poi alla fine del discorso Ducati Lorenzo non se ne farà nulla o almeno questo è lo scenario con cui il paddock della moto GP è andato via dal Red Bull Ring perché pare che ci sia stata una telefonata tra Org e Alberto Puig della HRC che hanno chiarito la vicenda e sembra che Org si sia deciso a rimanere alla Honda anche l'anno prossimo questa cosa ha avuto una coda però anche nel post gara perché Gigi Dalligna i microfoni di Sky ha confermato assolutamente che c'era stato l'abboccamento con Lorenzo dicendo scusami se ti interrompo dicendo io ho l'obbligo di prendere i migliori piloti che posso in quel caso ci poteva anche stare no insomma un tecnico e un capo un boss di quel calibro ci sta che faccia che dica certe cose e che faccia certe scelte assolutamente sì e tra l'altro io da un certo punto di vista sposo anche quello che lui ha detto dopo perché quando gli è stato domandato non pensi di delegittimare Dovizioso con una trattativa di questo tipo e lui ha detto no perché la Honda ha delegittimato Marquez quando ha preso Lorenzo un anno fa e quando gli hanno detto è diverso la Honda aveva una moto libera perché Pedrosa doveva smettere perché noi la moto libera non ce l'abbiamo Jack non ha ancora firmato la situazione la stessa effettivamente è un'estremizzazione però come concetto ci può stare e comunque il weekend è stata una vera e propria telenovela per la Ducati perché poi finita la gara bisogna dire che questa cosa qui forse ha portato un po' di strascichi perché si è visto un po' un rapporto freddo tra Andrea e i vertici della squadra almeno è quello che è un po' è parso di vedere dai dalle immagini del parco chiuso. Sì Matteo raccontiamo bene cosa è successo una volta che Andrea è arrivato al parco chiuso no? Ma la sensazione è poi magari stiamo montando un caso di niente ma la la sensazione è stata proprio che Andrea evitasse Paolo Ciabatti quando quando era al parco chiuso gli è passato davanti due volte e non non si è fermato da lui poi c'è stata una situazione un po' particolare perché appunto anche da Ligna non è andato al parco chiuso si è fermato sul muretto commosso emozionato ed è una cosa e qui arriviamo all'altra telenovela del weekend che aveva sembrava avere quasi il sapore dell'addio un addio di nome KTM lo sottolineiamo esatto perché nel post gara si era sparsi anzi prima ancora che partisse la gara si era sparsa la voce che la KTM dovesse fare un annuncio molto importante nella serata di ieri siccome c'era già nell'arco del weekend voce che KTM fosse molto interessata da Ligna e dicevano appunto anche che da Ligna non aveva preso bene il fatto che non si fosse riuscita a concretizzare la cosa di Lorenzo oltre al fatto che dicono che il rapporto tra lui e Dovi non sia esattamente ai massimi storici in questo momento tutti hanno fatto uno più uno e hanno detto Gigi va via la KTM prende Gigi è fatta e invece è invece poi nella stessa intervista che ha rilasciato a Sky ha detto in cui gli dicevano che è il miglior tecnico della MotoGP lui ha detto io non so se sono il miglior tecnico della MotoGP anzi non credo perché non ho ancora vinto il mondiale però sicuramente non sono sul mercato quindi spento il gossip si è cominciato a pensare e allora che cos'è questo annuncio un'altra ipotesi che aveva preso corpo era quella di Jack Miller visto appunto che Jack non aveva ancora firmato il suo contratto con Pramac ma anche quella poi è tramontata alla fine della fiera un annuncio della KTM c'è stato questa mattina ma è in uscita perché Matteo ricordiamo c'è un grosso nome che se ne va dopo pochi mesi dal KTM doveva essere pietra angolare per il progetto KTM di MotoGP invece dopo appena un anno saluta grazie arrivederci sì stamattina è stata annunciata la risoluzione consensuale del contratto di Johan Zarco che a partire dalla fine della stagione non sarà più un pilota KTM c'erano state le prime avvisaglie ieri sera perché il CEO Pirer aveva rilasciato una dichiarazione a Speedweek dicendo che Zarco gli aveva chiesto se si poteva risolvere il contratto in maniera amichevole e lui dice che da parte della KTM gli avevano addirittura proposto la possibilità di fare basta da ieri che doveva decidere lui se continuare a correre fino alla fine dell'anno o meno alla fine Johan ha scelto di correre fino alla fine dell'anno però hanno deciso di separarsi pare amichevolmente appunto quello che bisogna capire adesso sono due cose a dove va a finire Zarco perché per quanto stia vivendo un anno orribile non possiamo pensare che sia quel pilota bruciato e bollito che stiamo vedendo adesso perché se no allora mandiamo in pensione anche Lorenzo per lo stesso discorso e due chi prende la KTM al suo posto è chiaro che la KTM volendo ha una soluzione facile che è quella di promuovere se non trova nessuno promuove Miguel Oliveira nel team ufficiale e prende tra virgolette chi capita sulla moto del team Tech 3 però io non posso pensare che la KTM manda via un pilota su cui comunque ha investito tanto e non cerca di sostituirlo con qualcuno all'altezza soprattutto per la quantità di denaro che sta investendo soprattutto nel weekend che ha fatto un riassetto delle risorse sparendo dalla di fatto dalla moto 2 concentrando più risorse nella moto GP quindi insomma si sta parlando di un progetto che vuole veramente arrivare al top in moto GP se ti manca un top rider in questo caso è molto molto difficile mi verrebbe da dire assolutamente e a me verrebbe quasi da lanciare una provocazione perché sono anni che noi sentiamo dire che la KTM vuole markets e se prendesse suo fratello per cominciare a spianare la strada non ho voci assolutamente di nessun tipo è una provocazione mia però chi lo sa insomma passiamo da un team mi sembra di dire in difficoltà quantomeno dal punto di vista della gestione dei piloti a un altro che insomma sembrava dovesse fare una gran fatica anzi parliamo di casa in questo caso sembrava dovesse fare una grande fatica su una pista una delle peggiori piste per la M1 stiamo ovviamente parlando della Yamaha invece ci siamo trovati sul podio in questo caso sul terzo gradino del podio un meraviglioso Fabio Quartararo che continua continua in questa fase di crescita incredibile e comunque la M1 sta dando dei segnali molto importanti è vero di motore non ci siamo ancora però insomma abbiamo visto Fabio Quartararo terzo e Valentino quarto insomma abbiamo visto e Vignale squinto quindi insomma non proprio male no soprattutto hanno ridotto i distacchi rispetto all'anno scorso Quartararo è stato anche in testa un paio di giri a inizio perché Marquez ha fatto un'entrata folle su Dovizioso alla terza curva e quindi hanno perso tempo tutti e due però io ho visto sinceramente una buona Yamaha rispetto a quello che mi aspettavo è chiaro che quando hanno fatto vedere dall'elicottero il momento in cui Dovizioso e Marquez hanno superato Quartararo è stata una cosa quasi imbarazzante perché nella salita tra la curva 1 e la curva 3 andavano il doppio cioè sembrava una MotoGP che sorpassava una Moto2 però lui devo dire è stato molto bravo anche perché è riuscito a fare un setup che gli ha consentito di usare la gomma soft e quella è stata anche la chiave che gli ha permesso di stare davanti alle due Yamaha ufficiali in gara e già sabato comunque aveva fatto un mezzo miracolo perché andare a mettersi davanti alla Ducati in qualifica su una pista come il Red Bull Ring vuol dire che hai fatto un signor giro davvero devo dire che ha fatto una buona gara anche Valentino perché comunque partiva decimo è arrivato quarto quindi ha fatto una bella rimonta all'inizio si era agganciato al trenino dei migliori e poi ha un po' perso Quartararo e nel finale gli si sono rifatti sotto Vignale e Serins ma è stato bravo a non sbagliare e a rimanergli davanti l'unica cosa che mi ha un po' colpito nel post gara è successo ai boss è stato a vedere Valentino e la sua squadra che festeggiavano come se avessero vinto la gara cioè voglio dire va bene hai fatto una bella rimonta ma siete pur sempre arrivati quarti allora però mi viene da dire che se il mood di Valentino e della sua squadra in questo momento è quello va benissimo che prosegue un altro anno perché se un quarto posto si festeggia come una vittoria penso che quarti posti ne possa fare a Ioso sì anche specialmente considerando il fatto che davanti a te è arrivato comunque un pilota rookie e che difende i colori di un team appunto praticamente nuovo e comunque la moto è uguale alla tua per cui hai preso paga da un ragazzino diciamo che non è l'abitudine per un grande campione il grande campione che è Valentino un ragazzino che però penso che sarà veramente il futuro della Yamaha in MotoGP io penso che lui sarà il pilota su cui la Yamaha costruirà il nuovo ciclo più che Vignales perché io onestamente credo che comunque sia nel 21 Valentino smetterà e quelli della Yamaha sarebbero pazzi a farsi scappare Quartararo avendolo in casa ecco hai detto una parola interessante secondo me ed è futuro abbiamo visto dietro alle Yamaha due ragazzini che all'inizio e all'inizio dell'anno hanno faticato parliamo di Francesco Bagnaia e Michele Oliveira poi dopo la sosta hanno piazzato un bellissimo settimo e ottavo posto con una gara molto solida e tra l'altro mettendosi dietro piloti anche di assoluto valore ricordiamo che Petrucci è arrivato dietro i due ragazzi ne ho detto uno a caso ma stiamo parlando di due ragazzi che hanno ben impressionato esatto Pecco ne aveva assolutamente bisogno perché veniva da un periodo veramente nero con tante cadute, gare storte ha reagito però come reagisce un campione del mondo perché ricordiamo che lui è il campione del mondo della moto 2 a Red Bull Ring forte di sapere di avere sotto il sedere una moto che l'anno prima aveva vinto la gara è partito con determinazione ha artigliato una splendida seconda fila in qualifica facendo il suo miglior risultato in qualifica e anche in gara comunque ha tenuto un passo assolutamente più che dignitoso e anche lui con il settimo posto ha ottenuto il suo miglior risultato nella classe regina ricordando appunto che lui è uno dei quattro piloti che al momento dispongono di una moto dell'anno scorso che anche questa è una cosa che va sottolineata perché tutti gli altri hanno moto in specifica di quest'anno quindi prima di valutare Bagnaia come un flop dobbiamo stare molto attenti e pensare a questo aspetto mi ha fatto molto piacere vedere anche Miguel Oliveira così competitivo perché appunto secondo me è il lato bello della medaglia della KTM dove uno Zarco che fa una fatica pazzesca si trova opposto invece questo ragazzino che piano piano lavorando con dedizione con un tecnico di grande esperienza come Guy Coulon sta cominciando a mettere insieme i pezzi già Bourneau aveva fatto vedere delle cose interessanti ma qui è stato praticamente per tutto il weekend la migliore delle KTM e per lui secondo me è un segnale molto importante soprattutto in questo momento in cui magari vorrà provare a dimostrare di meritarsela lui la seconda KTM, quella ufficiale e quindi bene insomma ragazzi che crescono di contro come dicevi prima dietro di loro c'è un Petrucci che questo fine settimana ha deluso ma lui stesso ha ammesso di aver fatto un paio di errori grossi su tutti la caduta di sabato perché si è ritrovato a partire dodicesimo quando sarebbe stato comodamente almeno in seconda fila e il secondo è stato non proseguire sul filone tecnico che aveva preso nel corso del weekend perché lui aveva lavorato molto bene con la bombadura ma visto che ieri la temperatura si è abbassata molto non se l'è sentita di usarla anche in gara e gli è stato un errore perché non riusciva a fermare la moto e quindi pur avendo una buona velocità non riusciva a fare i sorpassi e non voleva rischiare di tirare giù qualcuno resta comunque che dopo due weekend neri come sono stati per lui quello di Bernot e questo qui è ancora terzo nel mondiale quindi insomma lui che firmava per la top 5 è ancora in corsa per ottenere qualcosa di più importante bene, chiudiamo qui il capitolo MotoGP perché è giunto il momento di passare un attimo alla Moto3 tu cosa dici? perché è successo qualcosa di molto molto importante per i colori italiani e per Romano Fenati sì, finalmente ritorniamo a parlare di Romano Fenati non per episodi da censurare ma per il suo talento a dare del gas Romano è stato il grande protagonista del weekend di Red Bull Ring ha fatto la pole position che poi gli è stata tolta con una penalità e soprattutto ha ritrovato una vittoria che gli mancava addirittura dal Gran Premio del Giappone del 2017 due anni sì, è vero che l'anno scorso aveva corso in Moto2 però insomma per lui forse è veramente la fine di un incubo e si spera che in questo modo possiamo cominciare a recuperare comunque un ragazzo che è innegabile sia uno dei talenti più evidenti del motociclismo italiano poi può avere i suoi limiti caratteriali e a volte un po' di comportamento perché comunque il gesto dell'anno scorso a Misano con Manzi ce lo ricordiamo tutti però è indubbio che quando c'è da dare del gas Romano è uno che ne dà come pochi e ieri lo ha dimostrato in condizioni difficili, miste la gara è iniziata con la pista bagnata ma con le slick lui e il compagno di squadra Tony Arbolino sono andati via insieme a John McPhee però poi a metà gara Romano ha cambiato ancora ritmo e ha staccato anche gli altri due è andato a vincere in solitaria dando un saggio del suo talento speriamo davvero per lui che possa essere l'inizio di qualcosa di importante un nuovo inizio un nuovo inizio perché è vero che tanti dei ragazzi con cui lui battagliava quando è iniziata la sua carriera oggi sono dei top rider in MotoGP mi viene da pensare a Vignales, a Rins c'era Bagnaia, c'era Oliveira lui ha corso contro tutti questi però non si sa mai ci sono anche carriere alternative come insegna Danilo Petrucci che per vie traverse alla fine insistendo, insistendo, insistendo c'è arrivato a guidare una moto ufficiale in MotoGP chissà che non possa succedere anche a Romano in futuro scusa, volevo fare giusto un'altra chiusura parlando di futuro stiamo vedendo in Moto2 ragazzi molto interessanti crescere molto bene nelle ultime due gare quindi Berno e anche ieri ieri ok, il risultato non è arrivato ma abbiamo visto veramente un ragazzo molto molto interessante mi sembra, no? sì, Enea Bastianini dopo il podio in rimonta strepitoso di Berno ha fatto una grandissima gara anche ieri purtroppo è stata vanificata da un contatto con Luca Marini a pochi giri dalla fine quando era secondo era secondo veramente attaccato a Binder che poi è andato a vincere la gara quindi probabilmente se la sarebbe anche potuta giocare peccato per Enea fortunatamente nonostante un brutto incidente nel quale inizio si temeva che potesse anche essersi fatto male la gamba destra invece sembra che sia tutto a posto però non c'è dubbio che sta sbocciando un bel talento lì e attenzione anche a Fabio Di Gian Antonio che invece aveva fatto una grandissima gara la settimana scorsa a Berno quindi ne abbiamo almeno due che bisogna tenere molto d'occhio che stanno venendo su bene in Moto2 Bene, cari amici Motorsport continueremo a tenere d'occhio i nostri giovani rampanti che provano ad affacciarsi alla MotoGP anzi, prima i vertici a Moto2 poi la MotoGP dandovi l'appuntamento alla prossima gara Matteo, se ci vuoi ricordare qual è? Si, si va a Silverstone Gran Premio di Gran Bretagna il weekend del 25 agosto nel frattempo se volete andate a farvi un bagno al mare perché questo fine settimana non c'è praticamente nulla di corse il mondo del motorsport sembra essere in ferie ma mi raccomando continuate a leggerci perché noi siamo qua che scriviamo e comunque si, l'appuntamento è per il Gran Premio di Gran Bretagna tra due settimane Sottolineo ancora una volta l'invito del nostro Matteo Nugnes ah, e fateci sapere cosa ne pensate di questo video se siete d'accordo o anche, anzi, soprattutto se non siete d'accordo argomentate per quale motivo noi saremo lì a leggervi e comunque commenteremo con voi fatecelo sapere nei commenti qua sotto e al prossimo Motorsport Report alla prossima! grazie a tutti! Grazie a tutti